Vivo per lei Vivo per lei È una musa che ci invita Il vivrà toujours en moi Attraverso un piano forte La morte è lontana Io vivo per lei 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 il s'agit ici de présenter les choses comme elles sont montrer les enseignements que donnent les chrétiens chez eux montrer les enseignements que donnent les musulmans chez eux et dire qu'au delà de tous ces enseignements au delà de toutes ces considérations religieuses il y a une synthèse qui doit être faite c'est la synthèse de l'amour c'est la synthèse qui dit je suis amoureux de toi que tu sois chrétien ou musulman que tu sois d'abobo ou de cocody que tu sois bété ou djoula moi je t'aime c'est de cette synthèse là que nous parlons à travers Parfum des Pings voilà c'est la synthèse de l'amour 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 Perché non ci sono la cosa più suosa? Prenditi proprio tranquillamente e mi ricordo. E così ci sono. Non ma? Non ma? Non ti fa fare la mia colazione? Non ma? Ti fa? Non. Non mi fai bambini. Ti⁉ È è è è è è Cia è coinvolta. non noi 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 Non, 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 non. Alors de ces 600 personnes, on n'en a retenu que 200. 200 avec lesquelles nous avons travaillé, nous avons effectué un voyage sur Bassam, toujours dans le souci de les mettre en face, de les mettre en contact, de faire des choses qui ne se connaissent plus, qui se pratiquent, parce que c'est une série TV qui durerait très très longtemps, quindi bisogna le mettere in contacto per evitare che sul luo del tournaggio alcuni gènero, alcuni gènero, alcuni honte quindi abbiamo fatto un viaggio su Bassam ma anche abbiamo fatto un po' di ripetition una piccola formazione cinematografica ma soprattutto ripetition ora che abbiamo constato che sono fin prati Grazie a tutti 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 senza arriere pensare per quanto per Coco di è stato un po' più complicato e ci sono persone che passano a la tele e dicendo che siamo pronti di la genezza, che dicendo che sono pronti a vincere e quando arriviamo al giorno G ci si tratta, si ritira si tratta, si tratta, si tratta si tratta, si tratta, si tratta abbiamo avuto delle promesse che ultimi giorni non hanno non hanno fatto non hanno tenuto la parola ma che dovete fare? o se tratta, iniziata o se tratta, iniziata sui passare con la ricerca per raggiungere le persone di buona che vi aiutano e il ciò che il ciò che è stato un po' più Grazie per la visione 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 Grazie per la vision Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie per la visione 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 Grazie a tutti